Ciao, sono Giulia Cassani, lavoro per SocialSeed. SocialSeed si occupa di accompagnare e supportare l'organizzazione del terzo settore e le imprese sociali in percorsi di innovazione. Lo facciamo attraverso un approccio alla progettazione innovativo che si rifà al design thinking ma che integra al suo interno anche un approccio alla progettazione partecipata, al design sistemico e all'analisi economico-organizzativa classica. Ti aspetto il prossimo 10 aprile e 17 aprile dalle 16.30 alle 18.30 presso l'Informa Giovani del Comune di Bologna. Mi raccomando non mancare, ti aspetto! Grazie!